Il suo avversario avrà le gambe potenti di Seedorf, il cuore di Vorini e la visione di gioco di Marchisio. Mettiamolo alla prova. Con Premio scegli il calcio che vuoi. Direi che ci siamo. Pay per view, ricaricabile o abbonamento per vedere tutta la Serie A delle squadre Premio, tutta la Champions e l'Europa League. Questo lo sai fare? Premio, tutto il calcio che conta.